Voi eravate amici con Pino? Sì, stavamo bene perché stavamo bene, ma lui poi ha fatto teatro e io no, facevo film. Ma qual è il ricordo più bello che si porta di Pino? Pino è io che ho visto i suoi figli, i suoi ricordi, mi ha preso così male, guarda, che io siamo della stessa età. Mi ricordo di lui che era un grande attore, veramente, il teatro era straordinario, non era quando non faceva l'attore, aveva il personaggio. Quando l'ha incontrato per la prima volta Pino Caruso? A Palermo. Ma lei in questi ultimi mesi l'aveva sentito? No, un anno, sarà un anno, perché mi hanno detto che ero tornato a Palermo, questo ho capito che non stava bene.